22 gennaio, giornata fredda, freddissima e anche piovosa, sono le 6 e quasi 25 e domenica, una domenica bruttina, quasi sempre in casa, comunque andiamo avanti. Cosa vogliamo dire ancora di questa società italiana? Quella che io mi lamento sempre è che non parla mai, che non dice mai niente, ma chi parla, e ne abbiamo di parolai in Italia che sono soprattutto giornalisti e parlamentari, ma alla fine mantengono quello che dicono, questa è la domanda, ma quello che dicono alla fine poi lo fanno? Se noi parliamo per quanto riguarda queste banche, il post, queste cose che abbiamo, sulle questioni banche, la signora prima ministra disse qualche tempo fa, quando era all'opposizione e abbaiava tutti i giorni, che bisognava togliere questo, questa commissione sulle, su queste transizioni, perché erano troppe, una volta arrivata al governo gli hanno chiesto perché non toglievano questa cosa e lei subito ha detto che non era possibile, era anticostituzionale, avete capito? Io ho sentito altri giornalisti dire una determinata cosa oggi, dire dopo nemmeno una settimana tutto l'opposto. E allora noi dovremmo valutare attentamente tutti questi tizi che parlano e quando si scopre che ciò che hanno detto non l'hanno mantenuta come promessa, e questo potrebbe essere un politico, deve essere buttato fuori a pedale e non deve essere pagato perché, ripeto, un politico non si vede per quale motivo deve essere pagato, perché chi va là deve prendere i soldi massimo delle spese, perché servire l'Italia non è un lavoro, non è un lavoro, là ci sono persone che hanno da 40 anni che sono là e poi questi tizi li fanno pure senatore a vita, noi di queste persone fallite che vanno là per lavorare, per prendere senza aver fatto mai niente e sempre hanno lasciato l'Italia nella confusione, con tutti i suoi problemi, sempre senza fare niente in poche parole. Queste persone qua sono delle persone che devono essere tolte di mezzo. Allora chi deve andare al Parlamento o a governare lo deve fare con le proprie forze, con le proprie idee, con le proprie spese, anzi le spese proprio il minimo indispensabile vengono recuperate, se documentate sempre queste spese, ma chi governa, chi va a fare il parlamentare lo dovrebbe fare gratis, perché è una grande soddisfazione. Non si può cambiare o scambiare o confondere quel posto come posto d'introido di soldi e soldi e 20.000 euro al mese, no, non è possibile, là c'è gente da 40 anni che non ha mai fatto niente e che guadagna, guadagna, guadagna e il povero popolo, gran parte del popolo non sa dove andare a mangiare. Questo si deve togliere, questo fatto. Soprattutto quando dicono un qualcosa e poi questa cosa non viene mantenuta, soprattutto quando stanno zitti, gran parte di loro stanno zitti. Non è possibile, non è possibile, bisogna cominciare a togliere questi fatti, perché se non si tolgono questi tizi è impossibile, siamo sempre punte da capo. Persone che sono andate là a fare i delinquenti che non solo non hanno fatto niente, ma sono andati là per mettersi d'accordo da fuori esternamente con persone malavitosi e cercare di creare un tipo di governo che è stato sempre a metà strada tra la malavita e l'ignoranza e la non saper fare niente. Questo è il fatto. Allora il politico lo si fa soltanto, dico soltanto, perché si sente qualcosa per la propria Italia, per la propria nazione. Il politico non deve prendere nemmeno un centesimo, nemmeno un centesimo. Un politico si deve chiedere cosa può fare per la sua nazione, non quanto deve prendere dalla nazione. Quanto deve prendere dalla nazione se ne va questo dizio, se è all'altezza, se ne va a fare l'industriale, si va ad andare a fare l'imprenditore, se è all'altezza di farlo e se poi è in grado di poter procurarsi tutti questi soldi. Non che se ne va nella politica. Nella politica si devono fare i fatti, si deve andare per fama, per grandezza, per capacità, perché uno deve chiedersi sempre cosa può fare per la propria nazione. Non il parolaio che oggi dico una cosa e domani ne dico un'altra. Se io devo dire che devo fare una determinata cosa, si vedrà alla fine, attraverso i fatti, cosa ha fatto questo dizio. E non è detto che poi voglia continuare, perché ci può essere un'altra persona che può fare molto di più, ma sempre gratis, perché andare a governare la nazione italiana è un diritto e un dovere del cittadino. Al massimo si devono avere altro che 20.000 euro al mese e posti a vita come quelli di senatore a vita. Ma stiamo scherzando, stiamo scherzando, ma che ce ne frega noi di queste persone. Se queste persone hanno bisogno di lavorare, devono andare a trovarsi un lavoro, un lavoro vero, non che stanno 40 anni là e super pagate dagli italiani senza fare un cazzo e poi avere una pensione pure d'oro alla fine della fiera. Avete capito come si va in Italia? Tutte queste cose devono saltare. Non è possibile governare in Italia, fare il parlamentare, aiutare l'Italia, deve essere un fatto spontaneo, come lo era esempio per capirci per gli spartani. Gli spartani non venivano super pagati, gli spartani mettevano a repentaglio la propria vita e non avevano neanche le mura nelle città, perché dovevano difendere con il proprio petto, col proprio corpo quella grande città-stato che si chiamava Sparta. Avete capito come bisogna andare avanti? Qua si parla di qua, di là, ecco perché poi incominciano a fioccare gli imbrogli, a fioccare i soldi, come attualmente il Qatar, come lo chiamano, Qatar Gate. Non avevamo spazzature in Italia, non avevamo veramente spazzature in Italia di imbrogliore e cose, dovevamo andare in Europa. Quell'Europa a che cosa serve? A che cosa sta facendo questa Europa? Non sta facendo proprio niente, si promette di qua, si promette di là e alla fine l'Europa non ha né una lingua unita, non ha neanche i soldi, non ha delle persone giuste, ci sono più imbroglioni di quelle che abbiamo in Italia, a cosa serve questa Europa? Non ha un esercito, non ha niente, non ha nessuna voce in capitolo, ha fatto bene l'America a mettersi da parte e si è visto cosa è successo. Se noi eravamo una comunità forte non ci sarebbe stata una guerra in Europa, invece questa Europa che noi abbiamo messo, perché abbiamo messo degli imbroglioni, degli strozzini, solo con la moneta, volevamo fare l'Europa solo con la moneta, spazzature in Italia che già è un'altra Europa, noi in Italia è come l'Europa, noi siamo un'Europa in miniatura, più piccola e quella è l'Europa, quello che succede in Italia succede in Europa, perché noi abbiamo le zone che possono essere francesi, svedesi, finlandesi che sono le parti veneto e così via. Poi abbiamo la parte che si chiama Italia, Grecia, zone abbandonate e così via, e quelle dell'Est, avete capito? Non avevamo spazzature in Italia e dovevamo fare l'Europa, che non serve a niente, che non ha voce in capitolo, che non ha una forza, che non ha un esercito, che non ha niente, che ha permesso pure di fare una guerra in Europa e che stiamo portando avanti quei tizi che sono più guerrafondai dei russi, stiamo aiutando dei guerrafondai più dei russi, questo è quello che è, e pretendono pure, e pretendono pure quei signori là, se c'era una forza di questa comunità questa guerra non sarebbe scoppiata, se a posto nostro c'era gli Stati Uniti, l'America, questa guerra non ci sarebbe Stati, e allora l'America ha detto, andate a farmi fottere, io non mi metto più nel mezzo, e si è tolta di mezzo, e si è visto quanto valiamo noi in Europa, che abbiamo fatto scoppiare una guerra e addirittura ci siamo messi in casa una nazione che secondo me è più guerrafondaia della Russia, perché noi, come facciamo al solito, dalla parte russa da quando è iniziata la guerra non abbiamo fatto sentire più niente, non arriva nessun tipo di notizia, non sappiamo perché questa guerra è scoppiata realmente, come sono avvenuti i fatti, come si stanno svolgendo i fatti durante un anno di guerra, non sappiamo niente, è tutto da questa parte, parliamo sempre di quel tizio che vuole soldi, che vuole ora carri armati, che vuole tutto, che vuole, io gli darei una petata in culo a quello là e lo farei arrivare dall'altra parte, perché quel signore là doveva sapere, doveva sapere che non si doveva neanche iniziare questa guerra, perché era improponibile, impossibile, perché se c'è stata questa guerra è nata dal fatto che l'Europa non conta un cazzo, che l'Europa, la comunità europea non conta un cazzo, è bene che si dica questo in giro, ecco perché c'è stata questa guerra e noi ci pigliamo quel tizio che facevano parte tutti insieme le tre sorelle, sapete qual era quando si diceva il zar di tutte le russie? Erano tre sorelle, era la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina e questi devono stare sempre insieme e ce ne siamo portati qua questi guerrieri, ci siamo fatti fare una guerra in casa, vicino, con tutti i rischi che ora e questo continua a pretendere questo tizio che sembra il Presidente degli Stati Uniti, che vuole, che vuole, pretende, giustamente la Germania sta riflettendo su questi cararmati e ha ragione, ha ragione perché i tedeschi non sono cretini, ne hanno combinati di tutti i colori negli ultimi secoli, ma non sono cretini fino a questo punto e giustamente stanno riflettendo, avete capito? E noi che cosa facciamo? L'Italia che cosa fa? Un cazzo, ci avevano promesso un sacco di cose durante la pandemia, dopo la pandemia non si sta vedendo niente, niente, completamente. Un attimo che bevo un altro po' di frizzantino. non è che le cose non vanno bene in Italia, in Italia non vanno bene, ma in Europa ancora peggio, ancora peggio, dovevamo scoprire questo Qatar Gate, lo dovevamo scoprire, questo imbroglione. Mi dispiace che il partito mettono sotto il riflettore quell'italiano, ma ce ne sono là a non finire. Che cosa fanno in Europa? Quelle là che cosa fanno? Che si pillano un sacco di soldi a fine mese, peggio di quelli che stanno in Italia. Avete capito? Cioè il povero cittadino con questa democrazia, che chiamano democrazia, aveva ragione o avevano ragione i grandi pensatori greci che quando è nata questa democrazia non la potevano vedere per nessunissima ragione. Crea soltanto delinquenza, imbrogli e non si fa mai niente di buono, mai e non si governerà mai uno Stato con la democrazia, perché per avere questa democrazia ci vuole una società evoluta come quella svizzera. Quella svizzera possiamo dire che è democrazia, ma è democrazia fino a un certo punto, è una democrazia con le regole. Là è tutto, due più due fa quattro, non sfugge niente, non c'è niente. Noi invece siamo così, ci manteniamo a uno là che è stato preso, stiamo facendo un sacco di televisione e da una settimana, chissà per quanto tempo si andrà avanti, non si sa niente, ha quattro miliardi dietro e tutto quello che ha se lo mantiene, ricatta chiunque, può fare chiunque una persona che ha in mano quattro miliardi e guardate che questa sei democrazia. La democrazia questa dice, la democrazia che non riesce a parlare mai, che non riesce a mettere insieme un popolo, che noi il popolo italiano non esiste per niente, non esiste. Venite qua a Napoli e venite a vedere se è Italia qua, ma qual'Italia? Qua non c'è una persona che parla in italiano, se andiamo in Calabria, Dio che ce le scanse liberi, in Sicilia non ne parliamo proprio, la Sardegna non la considero proprio, la mettiamo là da cose. Questa sarebbe la democrazia, la democrazia è stata la rovina, qua si deve cambiare registro, si deve andare verso un governo serio, un governo serio, non cose che quando si è all'opposizione si dice una cosa, quando si è al governo se ne fanno altre. Cioè io ho visto quello là del PD, cioè non lo so, una volta aveva il PD, è andato male, era pure Presidente del Consiglio, ha salutato tutti e si è andato in Francia, è ritornato dopo 8-9 anni, non lo so dopo quanti anni, si è preso di nuovo questo PD ed ora è sul punto che deve cambiare tutto, ma dove? Ma non si rendono conto questi tizi che la sinistra non esiste più, ma come fate a dire io sono di sinistra? Come fate a dire io mi vergognerei a dire è finita la sinistra, è finita ai tempi dell'Unione Sovietica, dovete cambiare completamente, quale la sinistra ha continuato a dire e lui ha lasciato questo partito dicendo che era più innamorato di quando è entrato? Ma non c'è niente da fare, sono teste proprio, questi ci governano e queste persone ci hanno governato più di quelle di destra, ora arrivano quelle di destra che prima hanno promesso una cosa e ora una volta che hanno preso queste sedie, queste piccole che sono al potere, le dicono e ne fanno un'altra e questa sarebbe la democrazia, democrazia, qua c'è da cambiare tutto, c'è da cambiare tutto, noi non abbiamo capito niente, prima di parlare di democrazia si deve parlare di un popolo evoluto, cioè un popolo che sia veramente italiano, ma dove cazzo sono gli italiani in Italia? Io questo mi chiedo, questo mi chiedo con molta serenità, dove sono questi italiani? Venite da queste parti, sentite come parlano, come vivono, non c'è niente di italiano, non ci sono neanche le strade, si vive di imbrogli, di raggiri, questa sarebbe la democrazia, l'abbiamo avuta per tanti anni quella schifosa democrazia di partito, schifosa con tutti i dizzi che hanno lasciato una traccia terribile, neanche il nazismo ha lasciato una traccia del genere, perché il nazismo quando c'è stato è finito e poi in Germania non si è visto più, non si è visto niente, qua invece si parla e ci si comporta sempre come quando c'era la democrazia cristiana, si stava zitto ai tempi della democrazia cristiana, perché la democrazia cristiana ti obbligava ad andare in cabina, altro che il 30% di persone che non vogliono votare, di astenuti, avete capito? Questo ha fatto un danno quella democrazia cristiana, quella democrazia cristiana che neanche il nazismo, sono convinto, il nazismo non l'ha fatto in Germania un danno del genere e ancora continuiamo, qua si deve cambiare tutto, si deve cambiare tutto, quelli che ci governano sono tutti illegali, sono tutti illegali, questo modo di fare è sbagliato, la democrazia in Italia è fallita, è fallita, qua sta il punto, si deve cambiare il modo, è come quando una squadra vuole giocare per forza all'olandese, all'olandese si gioca se tu hai i giocatori, se tu hai i giocatori, ma se tu non hai i giocatori, se non hai i Van Basten, i Gullit, queste persone, oppure la vecchia Olanda, i giocatori della vecchia Olanda del settanta, come Cruyff, Rensenbrink, Kroll, Subir, Anne, Hansen, Riesberg, Rensenbrink, tutte queste persone qua, come cazzo gioca all'olandese? Ti devi rassegnare e fare un altro tipo di gioco, all'italiana, col catenaccio, di contropiede, ma non puoi giocare all'olandese, all'olandese si gioca, tutti vorrebbero giocare all'olandese, tutti vorrebbero la democrazia, ma prima di avere la democrazia ci vogliono gli uomini, sarebbero questi gli uomini italiani qua, che non parlano neanche la lingua italiana, che si comportano come qua, da queste parti, tipo quando c'erano i Borboni, e noi con questa gente vogliamo fare la democrazia, con questi governatori che fanno schifo, che quasi tutti sono indiziati e quasi in galera, con le manette a portata di mano, e noi vogliamo fare la democrazia con questa gente, ma svegliatevi tutti, ma non rompete le palle come si deve, ora vi lascio e vi auguro una buona serata.